Uguali diritti per i coniugi gay in tutta l'Unione Europea, anche in quei paesi che non riconoscono le nozze omosessuali. Questo è il parere dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell'Unione nelle conclusioni pubblicate questo giovedì sulla causa intentata da un cittadino rumeno contro le autorità nazionali che avevano negato al coniuge a un cittadino americano il diritto di soggiornare in Romania. Il Paese, non riconoscendo le nozze gay, non prevede per le coppie omosessuali il ricongiungimento familiare. Le conclusioni dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea si basano sulle disposizioni in materia di libera circolazione dei cittadini e vanno nella direzione di una maggiore tutela dei diritti in seno all'Unione stessa. Sono felice di questo parere che potrebbe permettermi un giorno di risiedere con mio marito in Romania. Le conclusioni dell'Avvocato Generale non sono vincolanti ai fini della sentenza, ma molto spesso anticipano le decisioni finali dei giudici europei. Ancora non ci crediamo perché l'impatto di questo parere può andare al di là della nostra storia e oltre la stessa Romania.